Ascoltate un tamburello che segna l'accento a ogni due movimenti. Così. Così. Musica gagliarda. Quando l'accento divide il tempo in gruppi di due movimenti, il tempo si dice binario. Ascoltiamo. Pun due. Ascoltiamo. Pun due. Ascoltiamo questa marcia e osserviamone il tempo e il ritmo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Fate però attenzione ai colpi del cassone. Il tastone, il tastone, il tastone, il tastone. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Il tamburo, il tamuro. Musica gagliarda. Musica gagliarda. Musica gagliarda. Tecno. Musica gagliarda. Musica gagliarda. Musica gagliarda. Gli strumenti a percussione producono suoni mediante percussione su membrane tese sopra una cassa di risonanza. In altri strumenti la corda invece viene pizzicata mediante la percussione di martelletti. Martelletti, 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 martelletti. Ascoltiamo, martelletti, ascoltiamo, 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 martelletti, martelletti, ascoltiamo. Fate però attenzione ai colpi del cassone. Del cassone, del cassone. Fate però attenzione ai colpi del microtech. Fate attenzione a questo generatore elettronico. Martelletti. Musica gagliarda. In altri strumenti la corda invece viene pizzicata mediante la percussione di martelletti. Martelletti è il pianoforte. Fate però attenzione ai colpi del pianoforte. Del cassone, del cassone. Ascoltiamo, ritmica. Ascoltiamo, martelletti. Ascoltiamo, ascoltiamo, musica gagliarda, musica gagliarda. Musica gagliarda. Musica gagliarda. Musica gagliarda. A te. Musica. Tecno. E' un ritmo di danza. E al tempo stesso. Musica gagliarda. Musica gagliarda. Musica gagliarda. Grazie a tutti 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 Tecno Grazie a tutti 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 I colpi Grazie a tutti 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 Tecno Grazie a tutti 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 Musica Grazie a tutti 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 Tecno Grazie a tutti 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 Pianoforte Grazie a tutti 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 Tecno Grazie a tutti 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 Musica di Grazie a tutti Il tempo Grazie a tutti 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 Tecno Grazie a tutti 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 del cassone Grazie a tutti 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 Pianoforte Grazie a tutti Grazie a tutti Tecno Grazie a tutti 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 Schio Grazie a tutti 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 Tecno Grazie a tutti 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 Piano Grazie a tutti 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 Piano Grazie a tutti 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 del cassone Grazie a tutti 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 Tecno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti